Appena Sant'Andrea si torna al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale per l'elezione del Sindaco in primavera. Severino Serrani, Sindaco uscente, si ricandida alla carica di primo cittadino. Diciamo che il gruppo che mi sostiene si è espresso in questo modo. Il gruppo vuole che io mi ricandidi, anche se io mi sono messo a disposizione perché sono disposto anche a stare fuori, ad appoggiare il gruppo dall'esterno, sono disposto a candidarmi al Consigliere. Però la maggior parte dei componenti del gruppo vuole che io mi ricandidi a Sindaco e se c'è questa necessità sono a disposizione per il bene del mio territorio. Ci sarà un confronto democratico fra tre mesi. Diciamo che oramai è acclarato che si voterà il 26 maggio. Io mi rimetto a disposizione con il solito spirito di servizio che ha contraddistinto questo gruppo da sempre perché è un gruppo che si candida. Non sono io a candidarmi ma è tutto un gruppo che oramai da anni diciamo ci sosteniamo a vicenda per il bene del nostro territorio. E sono diversi i progetti da portare avanti avviati dall'attuale amministrazione? Beh sì, abbiamo diversi progetti da portare a compimento. Stiamo lavorando sul piano regolatore, stiamo lavorando sul progetto paride, stiamo lavorando sulla banda larga, stiamo lavorando anche sulle piccole manutenzioni. Stiamo lavorando su progetti di largo despiro che ci porterà ad adeguare dal punto di vista sismico tutte le strutture comunali importanti, le due scuole che sono in attività e la sede del municipio. Stiamo lavorando sul piano di ricostruzione, stiamo lavorando sulla ricostruzione che sta stenta a decollare e io spero che ci sia un input diverso, un input con un po' più forza per cercare in breve tempo possibile di recuperare quello che abbiamo perso negli ultimi anni perché il coacervo di norme non ha permesso la partenza della ricostruzione. Stiamo lavorando sul piano regolatore, stiamo lavorando sul piano regolatore, stiamo lavorando sul piano regolatore.